Mister Mariotti, una settimana difficile, voi vi siete isolati in vista di questo big match, arriva la prima in classifica, una partita a dir poco difficile, ma l'Arezzo ha buoni propositi. Assolutamente sì, io quello che dico sempre ai ragazzi, sarà una partita difficile ma anche per loro, perché è una grossa squadra, allenata benissimo, è un grande esperto della categoria in un solo, ma anche di categoria superiore, di ottimi giocatori, uno su tutti, Buziegoli, Cacciagli, Regoli, una squadra forte davanti ai Marzieri, Russo, una squadra forte ma altrettanto noi siamo convinti della nostra qualità e domani il gruppo squadra, tutti quanti noi vogliamo dare risposta importante ai tifosi e anche a noi stessi, alla società, a tutti quanti, per fargli vedere che noi non siamo quei brutti che eravamo stani anni, ma siamo quelli che ancora devono migliorare ma che hanno quella relazione che hanno avuto a Tifer. Nel corso della conferenza stampa ha ricordato che ci sono ancora 75 punti in palio e quindi non devono spaventare questi 5 punti di distacco proprio dalla capolista, resta però il fatto che l'Arezzo dovrebbe provare in tutti i modi a vincere? Ma assolutamente sì, noi tutte le partite cerchiamo sempre in tutti i modi di vincere, era solo una considerazione nel senso che questo campionato, se voi vedete, noi siamo a 5 punti e siamo terzi, abbiamo solo un'altra squadra e un punto, vuol dire che non c'è un qualcosa definito, ancora deve iniziare, i punti in palio sono talmente tanti che tutto è aperto, tutto deve iniziare, sta iniziando, domani è una grande partita perché ci deve dare un senso di riscatto per noi, per far vedere che non siamo quelli che sembra tante volte in alcuni aspetti della partita, in alcuni spezzoni della partita, ma siamo una squadra che crede nelle proprie possibilità e ha grandi possibilità per questo campionato. Ecco, sulla base del fatto che il San Donato, ripetiamo, una capolista, però prende anche tanti gol, ha un 4-3-3 dinamico, lei farà qualche accoggimento tattico in vista di questo match? Sì, abbiamo provato qualcosa, certamente bisogna avere grande rispetto, ma dobbiamo essere pure consapevoli delle nostre grandi qualità, qualcosa abbiamo provato, spero che sia una bella partita di calcio, sia uno spot, sicuramente sarà una partita aperta e proprio quello che è importante domani per noi è la prestazione e il risultato, dobbiamo dare risposta, come ti ripeto, a noi, ai diffusi che ci seguono sempre intanto e alla società. Domani mi aspetto a una grandissima gara.